Salve amici e amiche e bentornati sul mio canale. Il brano che vi propongo oggi, il tutorial di oggi, è su un altro capolavoro successo di Battisti, della coppia Battissimo Gol, parliamo di Vendo Casa, brano uscito nel 1971, interpretato oltre che da Battisti anche dai Dick Dick e da altri cantanti. Allora diciamo subito che il brano ha un giro armonico abbastanza semplice di sol e quindi a tutti gli accordi che ruotano intorno al classico giro armonico di sol, quindi dal sol, la relativa minore, mi minore, dopodiché la seconda minore che è la minore e poi la dominante che è il re. Solo che invece di partire dal sol parte con il la minore. Allora il brano è stato concepito e scritto per chitarra, quindi abbiamo all'inizio un arpeggio che noi miteremo un po' con il pianoforte, molto delicato, appena avvertibile se ascoltiamo il brano. Dopodiché diventa sempre più intenso fino all'ultima strofa della prima parte che dà proprio dei colpi di chitarra secchi e pure lì cercheremo di imitarli un pochino con il pianoforte. All'inizio io, non essendo un cantante, questo è un brano difficile da intonare perché a un certo punto fa la cucina, guarda che cosa, poi va addirittura sul solo e la gente intorno a me, io andrò un'ottava sotto. Mi sarà a volte difficile, diciamo, reintonare e quindi, perdonatemi, non sono un cantante, quindi non dovete, la mia è solo indicativa. Quindi all'inizio partirò con proprio l'intonazione giusta, dopodiché andrò un'ottava sotto perché non ce la faccio. Quindi adesso, come al solito, eseguirò subito la prima strofa. Non ha un'introduzione a questo brano, ma inizia subito il cantato e poi ve la spiego molto lentamente, come al solito. L'erba è alta ormai, lo so, e dovrei potare il melo. Quanta polvere c'è. Dentro casa è tutto un velo. La cucina, guarda che cos'è. Quanti piatti sporchi da lavare. E mia madre è sempre qui. Che ripete non lasciarti andare. Mi fermo qua perché poi adesso sala ancora di più e io andrò sicuramente un'ottava sotto con la voce. Allora, come inizia questo brano? Subito con il La minore. Allora, io sulla destra vado a fare questo accordo, questo arpeggio. prima di La minore, poi Re, poi Sol e Mi minore. L'erba è alta ormai, lo so, Sol minore. Sol, scusate, Sol. Mi minore. Faccio più piano ancora. E dovrei potare il melo. Quanta polvere c'è. E continua così con questo giro armonico. Poi alla fine per tutto il brano. sulla sinistra, La minore lo faccio così, poi faccio il Re, il Sol e il Mi minore. Ok, La minore, Re, Sol e Mi minore. Quando vado a unire le mani, molto piano faccio, vedo se registra, sì. L'erba è alta ormai, lo so. Mi minore, La minore. E dovrei repotare il melo. Quanta polvere. C'è. Poi va fatto molto piano, eh. Io adesso sto facendo più forte per farvi sentire. Dentro casa è tutto. Ma se voi sentite la chitarra, si sente appena questo arpeggio. Ed è sempre questo, eh. Fino a che non arriva qui. La cucina. La cucina. Io adesso vado un'ottava sotto. La cucina. Quindi è arrivato qui. La cucina. Guarda che cos'è. A questo punto, sulla sinistra, continuiamo lo stesso arpeggio di prima. Sulla destra, scusate. Mentre sulla sinistra facciamo i accordi. Do B. Quindi Sol. Mi minore. La minore. Re. Quindi La cucina. Scusate. la cucina. Guarda che cos'è. Quanti piatti sporchi da lavare. E mia madre è sempre qui. Sempre stesso giro. Che ripete non lasciarti andare. E la... Scusate. E... la gente... Devo andare un'ottava sotto. E la gente... Allora, a questo punto, nella terza strofa, abbiamo quel famoso staccato, molto violento con la chitarra, che andremo a fare in questa maniera. e la gente intorno a me come un dufo vuole guardare ma di strano cosa c'è questa casa ha visto amore oggi vedo un uomo che muore oggi vedo un uomo che muore quindi molto semplice, no? Quando fa e la gente... Se dovessi fare come è scritto questo Sol qua su io non ci arrivo, scusate. quindi... E la gente intorno a... A me quindi prima il La che possiamo... possiamo fare anche per limitare ancora di più l'arpeggio secco della chitarra oppure qui si va col pedale, si spinge il pedale in questo caso e poi si lascia in modo che si smorsa subito il suono ok? Quindi... c'è la gente intorno a me La minore come Re ufo vuole guardare di minore ma di strano cosa c'è questa casa ha visto amore ok? La minore Re Sol Mi minore oggi vedo un uomo che muore e poi qui c'è questo stacchetto ora lo faccio e poi ve lo spiego molto semplice molto semplice allora si parte con alla destra Si Si Do Re Mi Re Si Do Re Mi Re quando mettiamo il La qui qui mettiamo il Re ok? Due volte Re poi Si minore qui si e fa diesis e qui Re Mi Fa Sol arrivare al Sol mettiamo il Mi quindi qui abbiamo la minore il Re il Si e il Mi minore ok? lo rifaccio molto lentamente dopodiché Si e qui Do7 più Sol La Si e qui La quindi qui lo rifaccio tutto e molto lentamente ok? Molto semplice riprendiamo poi sempre La intonando in maniera scusate ho anche un po' di tosse e mal di gola in questi giorni quindi sto ancora meno limpido del solo però la prima strofa la faccio sempre come va fatta quindi uguale alla primissima strofa la poltrona fiori è vecchia ormai quello strappo è da cucire ho la barba lunga come tu la vuoi ed ho voglia di morire seconda strofa uguale un panino una birra e poi doppie accordi la tua bocca da baciare scusate la voce e la fiamma si alza ancora dentro me mi minore questa casa è tutta da bruciare ancora questa casa è tutta da bruciare quindi stesso giro sempre questa casa è tutta da bruciare da bruciare e adesso la 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 e va sfumando il finale è questo allora la seconda parte avete visto che è uguale identica alla prima quindi stesso giro armonico inizia la poltrona sempre con la stessa arpeggio la la poltrona scusate la poltrona fiori è vecchia ormai solo ormai l'avete capito quello strappo re sempre stessa è da cucire la minore o la barba lunga come tu la vuoi sempre uguale ed ho voglia di morire poi il famoso la minore di stacco un panino una birra e poi i tuoi piedi la tua bocca da baciare e la fiamma si alza ancora dentro quindi uguale sempre uguale a un certo punto qui invece quando arriva questo pezzetto è come quello precedente quindi la minore re si minore mi minore do sette più la poi ripete però qui il do stavolta dopo di che c'è questo pezzo che è il finale che è molto veloce praticamente do mi sol si re sol la mi sol sol re sol quindi praticamente con queste dita voi fate sempre questo in pratica quello che cambia è la prima nota sulla sinistra se volete fate soltanto ok mi fa sol la va fatto molto veloce dopo di che ovvero sol la si la minore la 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 mi minore ancora ancora la 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 mi minore come fa qui molto semplice si raddoppiano le note quindi da mi do si re la do sol si si re qui la minore re sol mi minore poi di nuovo sol la si mi minore ok molto semplice sto pezzo la 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 e va sfumando finisce così insomma sfumando in questa maniera allora credo di avervi detto tutto la canzone è semplice perdonate la voce ogni volta devo rintonare perché non ce la faccio se no perché andare un'ottava sotto con questo pezzo è ancora più difficile certe volte per certi versi la rifacciamo tutta tanto per rifarla partendo giusto l'erba è alta ormai lo so e dovrei bottare il melo andrebbe fatta anche più lenta eh quanta polvere se senti dei battisti c'è dentro casa è tutto un velo la cucina guarda che cos'è quanti piatti sporchi da lavare e mia madre è sempre qui che ripete non lasciarti andare e la scusate e la non ce la faccio e la gente intorno andrà sotto quindi e la gente intorno a me come un gufo scusate come un gufo vuole guardare ma di strano cosa c'è questa casa ha visto amore oggi vedo un uomo che muore oggi vedo un uomo che muore la poltrona fiori è vecchia ormai quello strappo è da cucire ho la barba lunga come tu la vuoi ed ho voglia di morire un panino una birra e poi la tua bocca da baciare e la fiamma si alza ancora dentro me questa casa è tutta da bruciare questa casa è tutta da bruciare questa casa è tutta da bruciare la 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 ok finisce così sfumando e penso di avervi detto tutto la canzone non è difficile è sempre quel giro armonico di sol e niente perdonate la mia voce non riesco a intonarla come dovrei è solo indicativa l'importante è che seguite gli accordi e le note degli accordi e degli arpeggi e basta ci rivediamo al prossimo video prossimo tutorial spero di stare un po' meglio con la voce e mi raccomando iscrivetevi e arrivederci